Vince il signore degli vici maschili alla nonna finale, la canottieri Gabriele D'Annunzio, Giacomo Toblini! Grande gioia per la canottieri Gabriele D'Annunzio, abbiamo visto le braccia al cielo e tutti i tifosi già pronti con macchine fotografiche. Ne approfitto per salutare tutti gli amici della D'Annunzio! Eccoli là, guardate che bei sorrisi! No, sono di qua oggi! Facciamo la foto con la bandiera, apparecchiamo! Potete apparecchiare qui davanti, ecco, posto! Dobbiamo girarla! Attenzione all'Aliele, attenzione all'Aliele! La canottieri Gabriele D'Annunzio che ci racconta questo successo, quanto hai lavorato per vincere la gara oggi? Qualche mese! Ti piace di più il singolo oppure il 7-20? Singolo, non so di più! Il singolo è molto di più, infatti ti ha visto vincere, ci vuoi raccontare com'è stata in partenza? In partenza sono stato quasi sempre primo, a parte con l'Aq7 che mi ha superato qualche volta. Sempre primo, ma il motore sotto la barca ce l'hai? No! Sicuro, eh? Sicurissimo! Guarda che è illegale, eh? Lo so! Ah boh! A chi vogliamo dedicare questa bella vittoria? A me! Salutiamo qualcuno di là? Tutto il circolo! Salutiamo tutto il circolo, una società meravigliosa sul Lago di Garba, complimenti ancora per questa bella medaglia d'oro! Grazie! 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 Grazie a tutti